1.500 trapianti di rene fatti e quindi pone Treviso ad essere una realtà non solo legata al numero di trapianti ma anche legata al numero di donazioni. Sono passati 40 anni dal primo trapianto di rene effettuato all'ospedale di Treviso. Anni di successi e sacrifici ma soprattutto di tante storie di vita, di persone che hanno scelto di donare gli organi del proprio caro e di persone che hanno potuto grazie a questo dono tornare a sperare e a vivere. Quando parliamo di organi in realtà parliamo di storie di dolore e di sofferenza, parliamo di mariti, di mogli, di figli morti improvvisamente, di lutti che sono stati vissuti in maniera diciamo dolorosa e rapida e a fine questi lutti sono sfociati in un dono e in un sì alla vita ed in un regalo enorme per una persona che nemmeno uno conosce. Medici ed infermieri in prima linea quelli che si occupano di trapianti, per questo dal 2018 nella riorganizzazione della sanità trevigiana verrà creata un'unità operativa dedicata a quelli che sono interventi chirurgici diversi da tutti gli altri. Per sensibilizzare la cultura della donazione sono stati organizzati dall'ULS 2 eventi, uno il 15 dicembre al Sant'Artemio, l'altro giovedì 30 novembre alle 20.30 al Teatro Eden. Musica e poesia si alterneranno alle testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il trapianto, donando gli organi di un familiare o ricevendo questo dono meraviglioso che è la vita.